Dov'è Jenny? Fottiti tu e lei! Senti la tua fedeltà è commovente, ma in questo momento non è la cosa più importante della tua vita, perché la cosa più importante è la legge di gravità. Per onestà devo confessarti che questo è il mio braccio più debole. Non puoi ammazzarmi! Ricordi quando ti ho detto che ti avrei ammazzato per ultimo? Sì, l'hai detto, l'hai detto! Ti ho mentito. Che ne ha fatto di quello? L'ho lasciato andare.